La sede per la Fil Commission abruzzese si farà all'Aquila ed è già deciso. La comunicazione, come si ricorderà, fu data in occasione dell'evento organizzato poco tempo fa dalla regione Abruzzo con i massimi esperti regionali e nazionali di cinema. In questi giorni sull'argomento non sono mancate le polemiche. A gamba tesa è rientrato il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci contro la richiesta di Pescara di localizzarla lì. Ma ora a parlare è il sindaco Pierluigi Biondi che spiega e replica al PD. Per il primo cittadino una candidatura della più grande città d'Abruzzo per una sede distaccata non può essere condannata, considerata illegittima o confusa con una scelta compiuta di visione. Soprattutto ha ricordato Biondi in virtù del fatto che il presidente Marsilio è stato chiaro sul fatto che la sede sarà nel capoluogo. Biondi ha definito l'atteggiamento del PD ambivalente. A Pescara reclama contro il sindaco Masci perché non ha ottenuto la sede. All'Aquila si scatena per la stessa cosa contro il Comune. Il primo cittadino ha voluto poi ricordare tutti i risultati incassati dal governo comunale regionale di centrodestra. Il Maxi, il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, quella dei Vigili del Fuoco, la Questura in fascia alta e via dicendo, passando per i riconoscimenti della perdonanza celestiniana. C'è questa ambivalenza del PD che a Pescara dice una cosa e all'Aquila ne dice un'altra e in questo modo alimenta solamente dei campanellismi sterili che abbiamo abbondantemente superato. In questa città e a Pescara l'abbiamo ribadito anche col collega ed amico Carlo Masci. Il Comune di Pescara ha chiesto legittimamente di avere una delle sedi succursali perché la sede principale sarà all'Aquila, sarà in Palazzo Ragonetti, l'ha annunciato il Presidente Marsilio e il Presidente Marsilio che è persona seria e infatti ha messo i soldi per fare la Fin Commission e ha stabilito che la sede dovesse essere nel capoluogo di regione e così sarà. Grazie. Grazie. Grazie.